Noi dobbiamo essere consapevoli dei limiti perché solo attraverso questa consapevolezza secondo me possiamo esprimere il meglio di noi stessi. Mi aspetto una squadra con senso di rivalsa, con voglia di legittimare il percorso. In questa partita credo che io debba essere bravo, insieme al gruppo di lavoro, a scegliere i ragazzi che possono dimostrare e meritare la fiducia che gli darò. Noi dobbiamo incominciare ad avere una mentalità diversa, cioè proprio la mentalità di chi vuole attraverso quell'identità di fame, di passione, di voglia dimostrare di poter fare meglio, ma partendo dai limiti. Noi nella squadra attualmente ci sono calciatori importanti, ma ci sono anche calciatori che devono dimostrare di essere da quello tu, cominciando dall'allenatore. Quindi dobbiamo ricercarla in noi, essere affamati perché essere soltanto arrivati qui non significa poi avere le strade spianate affinché fai bene. Arrivare qui e poi devi meritartelo di stare qui e dobbiamo fare di più. Probabilmente ogni squadra avremo un doppio svantaggio quest'anno. Lo svantaggio può essere quello che chiunque ti affronta, ti affronta con il fatto che sei crotone. Le squadre blasonate sono così. Quando io ero dall'altra parte, quando incontravo le squadre più blasonate, non avevo bisogno durante la settimana di motivare il mio gruppo. Non avevo bisogno. Anzi, dovevo fare attenzione perché c'era troppo motivazione. Dovevo essere bravo da quel punto di vista. E quindi noi abbiamo la doppia situazione, quella di dover dimostrare e gli altri ti affrontano anche con un altro piglio. Perché ti pensano sicuramente sempre più importante di loro stessi e quindi vogliono testimonare che loro perché non meritano la piazza che hanno. E quindi noi dobbiamo entrare nel virtuosismo di incominciare noi a pensarlo un attimino in modo diverso. Essere un po' più concreti, questo ci metterà a mano anche l'allenatore. Pensare di dover essere un attimino più affamati. E come lo si ritroverà? Lo si ritroverà prendendo batoste e provando a capire da uomini quanta voglia abbiamo di rialzarci. E tutto qua è poi il giochino virtuoso è questo. Non abbattersi, non trovare alibi, prendersi le responsabilità. È l'unico modo affinché possiamo toglierci delle ferite che rimangono, perché poi i segni rimangono e sono anche belli da vedere perché poi te lo ricordi che hai una ferita. Dobbiamo essere bravi da questa ferita e non farla diventare un'emorragia. a lavorarci sopra e cercare di incominciare ad avere un atteggiamento un attimino diverso.